grazie presidente io mi ritengo una persona moderatamente sportiva ho corso la mia la mia prima maratona a 18 anni l'ultima qualche mese fa ebbene candidare la città di Roma ad ospitare le olimpiadi del 2024 un po come pensare di correre la maratona senza aver mai fatto neanche le scale di casa questa città ha una carenza cronica mi dispiace che il sindaco se ne vada ma ci avrebbe fatto piacere il suo ascolto e la sua attenzione ma capisco che ha sicuramente problemi ben più gravi da affrontare dicevo la nostra città ha una carenza cronica di quotidianità di eventi ordinari non di eventi straordinari io sono stanco di sentire che si risolveranno i problemi ordinari mediante eventi straordinari i cittadini già ad oggi pagano le tasse più alte d'italia e hanno il diritto di vedere le strade manutenute di non portare i bambini a scuola e vedere crollare il tetto perché sennò la disciplina delle olimpiadi del 2024 sarà salta il fosso della scuola o salta la buca della strada i cittadini romani hanno il diritto di avere una mobilità sostenibile a prescindere dal fatto se questa città ospiterà le olimpiadi o meno prima il collega Maggi ricordava la metro c la metro c dove essere pronta per il giubileo del 2000 forse sarà pronta per il giubileo del 2025 sarà pronta a metà con costi raddoppiati e tempi di consegna dilatati e con un progetto che non esiste perché ad oggi si vuole realizzare la prima metropolitana del mondo che attraversa il centro di una città senza fare fermate bene voi immaginatevi gli atleti che arriveranno a roma nel 2024 e scopriranno che non possono attraversare il centro della città in metropolitana perché questa metropolitana non fa fermate in centro città e diranno ma dove dove siamo capitati forse in quest'aula c'è una memoria un po' corta e già si è dimenticata la vicenda di mafia capitale io prima presidente osservavo con attenzione quella bandiera di roma delle olimpiadi del 1960 perché rappresenta un'italia che ad oggi non esiste nel 1960 nessun consigliere comunale si avrebbe mai immaginato e pensato di prendere ordini al telefono da una qualche cooperativa rossa piuttosto che da una cooperativa bianca quindi adesso portare alla memoria gli olimpiadi del 60 è quantomeno ridicolo anche prima ossissita un dibattito con i consiglieri di centrodestra che si tuffavano il passato e in slogan degli anni 70 quando la politica pensa al passato in questo modo vuol dire che non ha minimamente idea di quale debba essere il presente quindi presidente ribadisco ancora una volta il voto contrario del movimento 5 stella questa mozione e sinceramente sono rimasto anche un po di stucco nella nell'ascoltare alcuni discorsi un po di rito la città va tutto bene nel 2024 vedremo è un'occasione di sviluppo questa città deve ripartire dall'ordinario presidente non dallo straordinario perché i grandi eventi abbiamo visto a chi hanno portato i soldi di certo non ai commercianti agli artigiani ai lavoratori della città di roma io presidente per 28 anni dal mio balcone mi sono trasferito da poco ho visto la città dello sport di tor vergata una grandissima opera mai conclusa ringraziamo l'ex sindaco veltroni lui si un campione olimpico campione olimpico di opere mai realizzate e di buchi di bilancio quella sia una disciplina olimpica che si potrebbe reintrodurre con roma 2024 ebbene io vedo questa opera che è costato 220 milioni di euro di soldi pubblici sottratti al prolungamento della linea b questa opera che non sarà mai terminata che ad oggi l'amministrazione non sa cosa farne bene presidente noi opere come queste non le vogliamo vedere noi pretendiamo che roma riparta dalla quotidianità dall'ordinario dalle piccole opere forse solo a quel punto potremo pensare di candidarci alle olimpiadi perché proporre la candidatura di roma alle olimpiadi oggi un po come se il buon padre di famiglia debba scegliere tra fare la spesa andare al cinema e dicessero andiamo al cinema poi la spesa vedremo più avanti quindi presidente spero di essere stato chiaro e anche breve il nostro voto sarà fortemente contrario quando la città di roma potrà offrire un servizio adeguato ai cittadini e poi ovviamente anche ai turisti e agli atleti magari durante una consigliatura 5 stelle allora forse forse si potrà parlare di olimpiadi grazie